Ed eccoci arrivati all'approfondimento. Oggi tocchiamo doverosamente un tasto dolente, notizia di queste ore, proprio di ieri mattina. Sono in studio con l'assessore al servizio idrico integrato del Comune di Trapani, il dottore Nini Romano, reduce da tutta una serie di indagini, possiamo dirlo chiaramente, di riscontri, dopo quanto denunciato ieri mattina dallo stesso Nini Romano ma soprattutto dal sindaco di Trapani in merito a questi attentati, così almeno sembrano che si sono verificati nella struttura dei posti di Bresciana nel campo bellese. Alcune precisazioni doverose per rispondere anche ad alcune altre precisazioni fatte dalla candidata sindacana Garuccio, ma non solo, certamente per dare delle spiegazioni ai cittadini. Partiamo dall'inizio. È così facile, assessore Nini Romano, entrare lì nella struttura che comprende i posti di Bresciana e manomettere gli impianti? Mi sembra una cosa davvero che non sta né in cielo né in terra. Ormai videosorveglianze e guardianie, sistemi di controllo ne abbiamo a dismisura, eppure subiamo queste cose. Mi sembra davvero un controsenso. Buongiorno direttore, buongiorno ai tuoi telespettatori. Mi fa piacere rispondere a queste domande, soprattutto per dare diritto in replica a quelle che sono le notizie che sono uscite sui giornali, anche il giornale news, che porta delle affermazioni da parte di qualche candidato a sindaco a Trapani su delle situazioni che di fatto non sono così. Mi ha chiesto se c'è un problema di guardiania o di protezione di quelle che sono i pozzi. Noi abbiamo la bellezza dei 13 pozzi a Campobello di Mazzara. Campobello di Mazzara è una zona, purtroppo, nelle cronache in questo momento non indifferente, di conseguenza bisogna stare abbastanza attenti. Non è vero, non è vero assolutamente. Infatti abbiamo anche dei scontri scritti da parte anche di quelli che sono i dirigenti e le posizioni organizzative del Comune di Trapani che hanno relazionato in merito. Tutti quelli che sono i pozzi sono tutti protetti da cancelli che sono chiusi da lucchetti. Nel momento in cui ci sono questi atti vandalici, perché di fatto, definiamoli così al momento, poi le indagini chiariranno se realmente sono atti vandalici o c'è qualche cosa altro. Io suppongo che ci sia qualche altra cosa, perché non è possibile che un atto vandalico si rivolge soltanto nella rottura di un lucchetto, nello stacco di quelli che sono gli interruttori che azionano le pompe e fanno sì che si allaghi la stazione di rilancio con il conseguenziale problema di non far arrivare l'acqua a Trapani senza che questo comporti il furto di quelli che sono dei pezzi importanti per chi fa questo tipo di lavoro, fra virgolette, o di smontare le pompe o di togliere i cavi. Per cui c'è qualcosa che non va. Non è assolutamente vero, ritorno a dire, perché i lucchetti nei cancelli ci sono e i lucchetti nelle cabine di trasformazione dell'Enel ci sono pure e sono messi anche dall'Enel stesso. E l'Enel ci dà il riscontro che questa è un'attività che viene fatta periodicamente. Purtroppo la situazione si riversa, queste faccende si riversano sui cittadini trapanesi, perché nel momento in cui succede questo, per almeno due o tre turni, l'acqua a Trapani non arriva in maniera perfetta e di conseguenza i cittadini trapanesi soffriranno la penuria di acqua. Questa è una cosa che purtroppo così avviene. E poi ci si accusa comunque che acquistiamo acqua da Sicilacque. Ma come facciamo a non acquistare acqua da Sicilacque in occasione del genere? Perché se noi non acquistiamo l'acqua da Sicilacque in occasione come questa, vuol dire che i cittadini trapanesi, altro che 3-4 giorni dovrebbero rimanere con i rubinetti a secco, passerebbero settimane con i rubinetti a secco. Per cui l'intervento che noi facciamo è quello di ripristinare immediatamente quelle che sono le azioni che sono state messe in campo, cioè accendere di nuovo i posti, svuotare l'allagamento che si è creato a causa di questa interruzione di corrente elettrica e dopodiché nel contemporaneo chiediamo a Sicilacque di avere un afflusso di acqua superiore in modo da poter dissetare, fra virgolette, i cittadini trapanesi. E questa è la pezza che doverosamente bisogna mettere. Ma come si vuole evitare che episodi come quello riscontrato possano avvenire in futuro? Allora, di fatto ci stiamo promuovendo per verificare, perché la videosorveglianza è relativa, perché la videosorveglianza basta che se sono delle persone che vogliono fare il danno, e lo vogliono fare, vanno lì con dei bastoni incappucciati, alzano la telecamera ed è finito tutto. Non hai più la possibilità di identificare nessuno. Bisognerebbe avere una guardiania di vigilanza fisica, cioè per trovare un'azienda che va a girare per questi posti. Dovete tenere presente che il campo Pozzi non è un campo Pozzi di pochi minuti, uno distante dall'altro, ma ci sono anche chilometri di distanza fra un Pozzi e l'altro, per cui se si vuole fare danno, anche in quel caso il danno si fa. Chiusamente in tutto questo periodo noi abbiamo preferito far sì che i soldi impegnati, che erano a disposizione, fossero messi per fare la ristrutturazione di alcune pompe e di alcuni Pozzi per avere più acqua a Trapani. Un'altra cosa, se mi permette, voglio precisare, e sarò velocissimo, quello che è la mancanza di contatori per verificare la portata dei Pozzi. Vero che ci sono alcuni Pozzi dove non funzionano i contatori, ma c'è un contatore all'uscita dei serbatoi che ci dà la quantizzazione esatta di quelli che sono i litri che partono da Bresciana, in modo tale da poi verificare a Trapani quanto ne arrivano. Questi contatori ci danno in questo momento, dopo che avevamo rimesso a posto tutti i pozzi, oltre 210 litri di acqua secondo, il che significa che avremmo potuto e possiamo sicuramente dare disponibilità ai cittadini, non indifferente dal punto di vista di afflutto di acqua. Va bene, un primo intervento per spiegare cosa è successo e cosa si sta cercando di fare per porre rimedio. Quanto dobbiamo aspettare per avere l'acqua a Trapani intanto? Ci vorranno un paio di giorni, però permettimi di concludere, noi dobbiamo dare delle informazioni ai cittadini non elettorali come quello che è successo in questo giornale, dove ci sono due articoli, uno più dell'altro che sono anche forvianti. I giornalisti fanno il loro lavoro, danno la vostra. Ma ci mancherebbe altro, però le informazioni devono essere precise, non è possibile dire semplicemente il negativo di tutto quando invece così non è, è un'informazione che i cittadini poi alla fine capiranno, sanno nemmeno quello che lo capiranno, perché queste cose sono un rimprovero non ai giornalisti, giusto? No, no, stai spiegando, che ci tengo, visto che poi l'ho dito pure io il giornale. Il giornalista riporta una notizia, poi è chi ha dato la notizia che dovrebbe essere così umile da verificare se realmente quello che lei sta dicendo è vero o lui, è vero o meno. Va bene, Assessore Nini Romano, capisco che c'è un po' di amarezza, intanto abbiamo dato qualche informazione in più ai cittadini. Sulle indagini, per quanto riguarda quello che è successo, non possiamo che attendere i riscontri e gli sviluppi, in questo momento ci limitiamo solo a riportarvi le croneche di quello che ci viene riferito come stampa. L'amarezza è per quello che non arriva l'acqua ai cittadini, ma poi c'è uno che disse non ti curare di l'ombre, guarda e passa, per cui alla fine quelli che hanno dato questa notizia, insomma, se la piangeranno si ricarreranno su di loro e non su di loro. Grazie Assessore Nini Romano, grazie a voi per averci seguito, ovviamente chi vuole ulteriormente precisare, documenti alla mano, siamo qua per dare spazio a tutti. Certamente, grazie.